Sono chiamato, sono venuto domenica a lunedì notte, ora basta. Il discorso mi è inserito da dentro, ora magari diciamo, ma ora però la fognatura è rivolata, questa è più alta, e se ci vai. Ogni volta che c'è la pioggia praticamente? Sì, sì. Io ho un bussetto che mi scarica il fuori, no? Chi sei qua, sento che qua è calda, a me è una frizia del liceo, adesso è pure il mare. Non è che questo è un mare, ma questo è un mare. Ora entra il sol, ma poi pure i pesci. Ma forse non la riesco nel giardino. Alzando questo non entra dentro, ma che è meglio che mi entra dentro? Ciao. Ciao.